Bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, ecco a voi il vostro LLegati97 Oggi siamo sempre con Diana e porteremo un video Alcatraz e Battle Royale, buona visione! Scendo io? Via dai si scende, anzi vai tetto, tetto Non ho caricato le armi Niente io e c'è uno che mi spara, porca buttana Ma muori, uno E due Quello che voleva uccidermi perchè ero senza armi ha morto Ah 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 Qui c'è un altro Morto No, c'è un altro Madonna Rischio Ma si è laggato il gioco, cioè? Eh, non ho cure Eh, scendo, vado a cercare qualcosa No, ho trovato una cassa Ah, cure Ah ragazzi, dimenticavo, a 100 iscritti Porterò un video speciale, diamo un gas, visto che me lo chiedete in tanti Vi spadigli di iscriversi Sì sì, devono iscriversi a... Sì sì, devono iscriversi a... Ma perché? Shhh, sento un tipo Una K47 Arancione Dici che sono sul tetto Sì, secondo me sì Vedo un sacco di piedini qua Ciao È fortissimo con l'arma qua, Diana Ciao, ce n'è uno dietro di noi Lo so Madonna Qua è libero Vieni Che bravi che siamo Vieni giù che c'è un po' di gente C'è un ICR viola se lo vuoi Siamo arrivati fino qua Oh, quante armi viola, sono tutte tue Ma la gente mi passa in parte ma non mi vede Dov'è? Vieni dove sono io Aspetta che sto uccidendo uno Come faccio a venire dove sei tu? Eh, non so dove sei tu Aspetta che sto uccidendo Jane Eh, sono sotto sotto Ah, ma io sono sopra sul tetto, eh Davota, dimmelo Aspetta Ce n'è uno che si è cagato addosso Adesso sta scappando Ma adesso è morto Facciamo che ci vediamo in safe Ho preso l'ASM viola Vado a caccia di gente Andiamo a caccia di gente Numero di kill vi spa? Ho quattro Io non te lo dico Poche poche, no Ma cosa mi spari una granata? Cioè tre colpi del mio fucile sono morti Cosa ci credo? Ne manca uno, eh? Sì, lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io E' in quella casa là davanti Amico, chiamalo Dove sei? Allora, qua non c'è Allora muore nella safe Lo sto crepando io Qualcuno l'ha trovato Sono uscito dalla safe E' morto anche Ok E una andata Vinta Prima c'è andata bene Speriamo che ci vada bene anche stavolta Io sono tutto rosso e non ho capito perché Buona visione Ero diventato tutto rosso e non capivo perché Ma avevo sbagliato Luci e colore delle luci Non ho ancora un'arma Ma non c'è nessuno Sono tutti di sotto Adesso apro la porta E sparo questo qua E vieni qua però Dove cavolo scappi? Mi la smette di scappare Muori e basta Uh c'ha un pompa brutto Però lo prendo Ne ho steso uno Ne ho steso uno Come faccio andarlo a prendere adesso? Ah Oh Il pompa figo ce l'ho adesso Andiamo a uccidere qualcuno vispa Scendi da quel tetto là Che non c'è più nessuno nessuno E adesso scendo Sto prendendo le ultime munizioni Qua dentro c'è qualcuno Ciao! Mi sto scendendo Amico Lo so che sei qua È morto Oddio Ma ti arriva al lato In due sono eh Ma si può Che cazzo le armi ha Bispa l'ho ucciso Non so come ho fatto però Che armi aveva? Una K47 squallidissimo Usa un scopo di adrenalina ora Ma non è che ha anche un pompa in tutto questo No Non ha un pompa Colapsa un minuto Perfetto Una terra Una terra Una terra Non ho un mirino però Sono morta un'altra volta Povero E ho solo 4 Chiudo Bravo L'hai ucciso Dov'è ucciso C'è Ma come Mi sei volato addosso Cioè gli sono volato addosso Non c'è a dove cadere eh No 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 Alla ragazza Sono troppo forte, vispa, cioè nel senso cosa ho appena fatto Io mi devo curare Ma con chi pensi di avere a che fare? Perché mi spari brutto strusso Anche te Ho un cordite Sono morta, uno dove c'è la cassa aperta Adesso ho scelto Madonna, un lancia granate Non posso più scendere Come no? Ma come, terzi? Per concludere in bellezza Una battle La vinceremo sicuramente Mi è morto il joystick No, vispa, è morto di nuovo il joystick Non è che è scarico Non lo so Sono venuto Scusate ragazzi Mi era morto il joystick Sono andato a cambiare le batterie E devo ancora prendere tutto Dov'è che non l'hai rubato? Nel capannoni dove sei? Ma non c'è niente Lì non ho rubato niente io Non hai rubato niente? Perché non c'è assolutamente niente C'è un tipo È morto Ecco vedi Io rubo le cose Un altro morto Ma c'è un tipo Non c'è più Mi ha accecato C'è un tipo dietro di noi Non c'è più Ha finito i colpi La safe Corri Sono dietro la safe Sono in safe Anche io E adesso mi curo C'è un tipo Morto Andiamo 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 C'è un tipo Dov'è? Non credo ci sia più Morto Ce n'è un altro Ce n'è un altro Ce n'è un altro No Dispa La mia vita Morto Siamo ancora a un numero dispari Lo vedo C'è un altro Collapsing Ho finito i colpi Grazie È morto Ma riusciamo a mandare in safe All'artic viola Lo voglio C'è il carro armato Uno morto Mi spa Andiamo Io vado a prendere il carro armato Con o senza di te Dove Aspetta Morto Vieni a prendermi Ma come Fantastico Hai visto dove Diavolo me l'hanno messo Il carro armato Un c***o Fai a prenderlo Eh me lo sto chiedendo Anche io Ma come fa a spawnare Un carro armato qua Ma c'è un'altra cassa E c'è anche un tipo Davvero Lo voglio io Il tipo Morto Legati Dimmi C'è un carro armato Dove È quello che mi ha ucciso tu Sì Eh no C'è quello nell'acqua Sì Quello non nell'acqua No ma non lo prende nessuno Perché non è in safe C'è un tipo qua Morto Ne mancano tre Lo sento Lo sento Sono io No no è lui Guarda lui È morto Fin E anche per oggi è tutto Ragazzi Abbiamo vinto anche questa Io vi saluto E ci vediamo In un prossimo video Ciao Ciao